uno come te non può girare in taxi, guarda qua bella raga sono Steven Basalari in questo video per premiare il mio social media manager Nicolas farò decidere a lui cosa fare nelle prossime 24 ore vieni qua Nicolas quindi dimmi dove vuoi andare ogni tuo desiderio è in ordine io voglio andare a Ibiza da casa Basalari a Ibiza è un attimo, guarda qua eccoci qua arrivati a Ibiza ho fame lì Ushuaia Ushuaia penso che lì c'è un ristorantino potremmo andare a mangiare lì andiamo a pranzo all'Ushuaia let's go Ushuaia Steven sei mai già bene a me no? è male è scherzo posticino umile hai visto Nico? sarà bello economico qua non preoccuparti sei un re in questa vacanza c'è tanzettino finito adesso ti porto in hotel come sarà? 2 stelle, 3 stelle andiamo ci dico arrivati hotel 5 stelle solo su andiamo che re che sei diventato ti vedrai bene qua dentro a prendere il sole dentro e guardi il mare mamma mia ci sono i milioni che farai se solo una piscina non ti basta ce n'è un'altra a primo piano grazie bro mentirizzi ma scusa ma andiamo in giro in taxi uno come te non può girare in taxi guarda qua ecco le chiavi Lamborghini Urss Nico direi che siamo piazza di penna mamma mia che cerchioni che dettagli anche bella pulita devo dire apriamola oh porca che cazzo ci fai qua sotto Nico andiamo mamma mia vai accendi ma voi quando lo accendete tirate su questo o lo lasciate giù perché io ogni tanto lo tiro su la corsa non la pido neanche giusto esatto sentiamo facile rimorchiare questa macchina mamma mia perché non ho i soldi un giorno Nico ricordaci un giorno ti dico una cosa stasera voglio andare a mangiare non posso tranquillo con gente tranquilla dottore dove mi hai portato la vacanza è terminata devono essere 24 ore e invece siamo stati quattro notti nel video avete visto proprio un piccolo riassunto ma in realtà mi si è costato molto di più di quello che ho pensato quanto ti è partito è un bel po' di millini vediamo se i ragazzi riescono a capirlo nei commenti ma un milione arriva Nico manca poco a capirlo